In promozione non riesce il colpaccio alla Empedoclina contro l'ultima della classe. La doppietta di Abate e la rete di Donato non sono bastate e si deve accontentare di un punto sul campo del Villabate. Clamorosa sconvitta al son di reti dell'Albatros e l'Ercara, che becca quattro reti sul campo della Mazzarese e perde il primo posto, occupato adesso da ben tre squadre e tra queste c'è anche il Caser Termini. Vittoria esterna dell'unità si sciacca a Partinico con reti di Priola e doppietta di Galluzzo. Seconda vittoria di fila invece per la Gattopardo, che si aggiudica il derby esterno con il Camarat e risale la china. In prima categoria vittoria di forza dell'Atletico Gorgonia, che mantiene la vetta della classifica, in seguita a due punti dalla coppia Agrigentina-Gemini ed Atletico-Favara, anche se vittoriose in questo turno. Vince anche il Raffadali, che liquida con una quaterna di reti i cugini del Ravanusa. Il prossimo turno metterà di fronte l'Atletico-Favara e il Raffadali, mentre il Gemini ospiterà il Caltanissetta. Scendendo infine in seconda categoria, bella vittoria interna dell'Eraclea, che supera la nuova Petiliana grazie ad una tripletta di Calogero-Giuffrida e conferma la vetta della classifica. L'Atletico-Montallegro perde il confronto diretto con il Don Bosco-Mussomeli, vince invece l'Atletico-Licata grazie alle reti di Callea e Bona. Buon pari esterno dell'Alessane della Rocca, che strappa un nulla di fatto sul difficile campo del Gela. Infine il Muxar, che è stato fermato sul 3A3 dalla Nuova Catarinese.